Ciao ragazzi, sono stata Cacetevi e oggi siamo in questo nuovo video su Cacetevi finalmente perché da un sacco di tempo lo faccio e non è vero un cazzo, non è vero un cazzo un bel baule maggio adesso ci potenziamo anche ovviamente il fattore di meta che è un po' di meta poi vediamo qui un originario a caso manco un cazzo poi vediamo il baule originario si si ecco il cazzo questo epica ci sono rimasti di me ma non vale così non va a chiedere non va a chiedere non va a chiedere allora ci potenziamo questo a 50 questo potenziamo a livello 2 potenziamo a livello 3 potenziamo a livello 3 potenziamo a livello 4 ok siamo pronti per fare la battaglia che cosa sono sui miei tre messaggi 66 giorni fa oh my god oh my god oh my god oh my god ok 3 2 1 go andiamo a fare questa partita e non ti aprire cazzo rena sei di merda ancora che si apre a rena sei di merda sono riuscito a entrare in questa partita e finalmente dobbiamo vincere perchè se non vinciamo siamo delle pippe dell'arena sei sono una pippa dell'arena sei ok mettiamo la valkyria ci metto pure il drago ok non mi interessa buttami il ciucolatore non mi interessa non mi interessa niente vai ok c'è due mia oh my god eh ma è un po' pazzino un suono vero? ma vero? oppa cazzo perchè ho lasciato il principe no? ciao ho perso oh no 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 si si ho perso si è grande così andiamo a perdere per il caso di cambiare un po' il valkyria perchè questa non è che vado a questa arena magari ma io manco la sarina non aspetta oh porca di quella vacca mamma ma non mi dico che non c'è manco lo spedro gigante ma no ma se lo vai vedere quante cazze avete c'è uno due tre quattro mamma sto bongo è una cinque mamma potente ah eccolo sei ah eccolo sette ah eccolo ok allora c'è un bel po' prova a fare una cosa così perchè ho lasciato troppo andare quello la e non doveva andare così la partita poi è a livello set io sto livello sei è più piccolo ok ragazzi noi ci difendiamo con la valkyria e il cucciolo di drago è un bel moschettiere dietro vediamo la metà di scelta no non li devo mettere gliel'ho messi in faccia sono un cretino sono ma cosa le arcigliano ciao torre terzo ciao e madame no 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 Mi hai fatto un favore, lo sai. Grazie del favore. E grazie della torre che mi hai fatto buttare giù perché mi serviva in tutto. Ok ragazzi, adesso mi devo buttare il più grande possibile. Mi voleva. L'ho buttato giù la torre, vai. Mi guarda quanta roba l'ho buttata. Ciao, ho vinto. Ho vinto. Continuo da giù il quale. No, mi stanno uccidendo. Vincere. E va così. Mamma mia. Allora, questo sono io. Questo è il mio cugino. Mastino lato. Poi, questo sono io. Eccolo qua. Ecco qua. Questo sono io. Ho fatto 2.386 donazioni. Questo sono io il 2024. Questo è il mio cugino che è il 2021. Ha questo bel mastino labico bellissimo. E guarda che cuccio di mastino labico è troppo forte. Non ti vuol fare niente. Ok ragazzi. Allora, dopo questa. L'ho questa bella partita vinta. È una terza. Ci vorrei salutare. Ci vediamo al prossimo video. 6 minuti. Ma che schifo. E poi devo andare a mangiare. Ciao ragazzi. Se non lasciate like, vi voglio capire. Ciao ragazzi. È uno scherzo. E questo è uno scherzo finito male. Arrivederci.